ciao sono irene sei qui nel mio canale di youtube un canale che presenterà una serie di video sulla crescita personale il canale dedicato al mio blog che è intuito ottimile.it nasce dalla mia necessità della mia esigenza di sviluppare la parte intuitiva la parte intuitiva un canale aperto che possa migliorare la propria interiorità che possa fare evolvere il proprio essere e possa tirarlo fuori interamente il mio obiettivo è quello di confrontarmi con tutti coloro che hanno questa necessità e soprattutto di aiutare me stessa a conoscermi e aiutare chiunque voglia in qualche modo condividere questa mia esperienza grazie ciao ciao ciao